Ciao a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mii Siamo con la decennia media puntata di Obiettivo Sopervivenza E come penso molti di voi si ricorderanno Dobbiamo farci una... Ah, paglia Ecco, io non ho ancora capito dove cacchio è che sono Allora, scusate No, allora, portami di fronte a casa Purtroppo Ho capito dove che siamo Ecco Purtroppo abbiamo avuto qualche piccolo problema con le mod Infatti ragazzi, adesso qua, vedete Abbiamo tutte le mod varie della forge Sì Però non possiamo volare E già tanto se abbiamo il frame Ecco che fa schifo Allora, un attimo che tolgo sta roba qua alla fellullo Che mi dà proprio fastidio Si fa... Ehm... F se non sbaglio Sì ma il problema è che adesso stavo pensando Perché le casse sono aperte? Cioè, aperte Ok, va bene Capisco E... Vabbè, non c'era anche un letto a qualche parte Sì, ecco, ok, va bene C'è leggermente baggato Minecraft Ma questi sono tutti dettagli Allora, non so, c'è Wolf che è a comandio, ve lo dico Adesso dobbiamo organizzarci per andare No, allora, un attimo Cioè, scusa Sono io il manager qua Innanzitutto da fastidissimo il coso Che si toglie facendo Control F F Control F Alt F F Q No No La sfada R T No Y U I Si le ho qui Eh... F No G H J K L Aspetta Aspetta Forse ci riesco No, 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 no Allora, allora Ci dobbiamo riuscire a soli Mi fa in pena Ci dobbiamo riuscire da soli Z X No G No V B N M Ok No Ma non è possibile F1 No F2 F4 F5 No No F6 No Basta F7 F8 9 10 11 11 Aaaaaah Per un attimo ci scommetto che non avete visto niente E' tornare andato a schermo intero F12 No Ah ecco F12 No Non è possibile Facciamo sul C'è Minecraft che sta laggando Si capisce niente No perché intanto l'importante è la inizio Si infatti che sta laggando Allora Bisogna fare così Ragazzi Ci rivediamo Ci rivediamo fra pochissimo E eccoci ancora qua Si sta riavviando Minercraft Non risponde Si sta riavviando Minercraft Ecco Naturalmente è sempre il solito casino Noto che comunque la guns mod Ci deve rimanere Non si può proprio togliere Quindi continuiamo Facciamolo senza perché è un casino Se no Magari ci sono sbaggate le casse Che ci avevano sto rifettuccio Sbaggate Sì eccezionale Allora almeno è servito qualcosa Non togliamo niente perché è un casino Allora Aspetta fai un po' Orga Ok No scusa fa schifo Ma almeno vedi la Y No Come cacchio ho fatto No No Non mi serve la Y Allora Stavano dicendo ci servono No E' alla tassata fatta le nostre tasse Sì ma Perché le altre non sono nostre adesso Allora La spada di ferro non ci serve a niente Il grano non ci serve a niente Ci serve la carne La cordicella non ci serve Ma comunque spieghiamo che adesso il nostro obiettivo È quello di andare a farci un giro Prendi le torce che ci possono servire Sì Dobbiamo andare a fare un giro Perché ci serve per prendere Ah dei quei corti di quelli che salta Sì la palla di slime Quelli che salta Allora Quelli a venti Da notare che noi purtroppo Non abbiamo più la visione notturna Anzi poi ci faremo il visore notturno Con le nostre super mod Però dobbiamo fare il portale Allora un secondino perché io non ci sento niente Non so voi ma io non ci sento niente Il problema è che dobbiamo fare il portale del Dell'Eden Dovremmo fare il portale del Nether Del Nether è la stessa cosa Perché Eh dell'Eden Perché Perché Dobbiamo insomma Vabbè Dovremmo fare anche il portale del Nether Abbiamo un casino Aspetta Mi sembra di aver sentito uno scheletro Sì i dettagli Tanto gli scheletri ci sono sempre Poi non possiamo neanche più vedere l'entità Questo schifo di mod D'ora in poi la X-Ray ce la possiamo scordare Sì l'ho sentito anche io lo scheletro Basta che non sia di fronte a noi E non ci dà fastidio Slime Allora no mi sono ricordato adesso di una cosa che mi fa incazzarissimo È arrivato il momento di una confessione E dato che noi giochiamo in modalità estrema I mondi li salvavamo in una cartella del computer In modo tale che se morivamo Avevamo comunque il salvataggio Ecco Stavolta non abbiamo fatto il salvataggio Quindi Se moriamo Sono Cazzi Cioè Sono Peni Ecco Di giama Porca vacca Dai la palla Si è solo che Si sembra qualcosa altro che abbiamo detto ma fa niente Non è esattamente piacevole giocare senza aver salvato il mondo Mi sento un pochino in tensione Però fa niente Io Dato che non potremmo più usare la visione notturna Per un po' metto torce ovunque come al solito Allora quanti palle di slime ci serve? Ma lagga come una bestia È a bestia Ci servono più palle di slime possibili Qua vedo che abbiamo naturalmente un buco simpaticissimo Perché adesso i buchi possono anche essere simpatici o non Ma qua cos'è successo? E' esploso un creep? Ah no Cosa l'avevamo fatta noi? Vabbè insomma Una minchiata come al solito No salta Ah Ecco perché l'avevamo fatta Ma si sentono dei rumori in sta caverna Che danno Poi lagga come Poi lagga come una bestia Si Non è sconsigliabile toglierlo in questo momento Si No aspetta Attimati un attimo Vediamo dove è che arriva Fin dove arriva No si può togliere E' un po' complicato capire No si No no perché Non si capisce un cazzo Allora aspetta Va facciamo prima A chiudere la lagga Insomma E' un po' pericoloso Quel che stiamo facendo Ma noi Ma noi Non siamo Noi siamo dei temerari Quindi No aspetta Fai una scala qua Fai una scala Cioè Metti un pezzo di terra Allora Ragazzi Non rifatelo a casa Ok A postissimo A postoico Allora Attenzione La lava Se ne va Si ma Purtroppo Se ne va anche La nostra unica fonte di luce E sostentamento Io ho paura Quando finiremo le torce Eh Vabbè Ma perché non se ne va Oh Ottimo Adesso scava Così almeno Adesso tolgo sto Cubo Adesso risalta fuori la lava Mi arrabbio Allora Stiamo già per rimanere Senza torce Allora Togliamo il super ferro Super ferro Buttiamo via già il piccone Il primo piccone A giornata Allora Secondo Ok La lava non c'è No Ma non c'è Non c'è neanche più dietro lì Non so Vabbè E' sparita la lava Come al solito In Minecraft Gli spawn Degli oggetti E non Sono un po' Sì Per chi non lo sapesse Quello che ha fatto Lo spawn di Minecraft E' stato lo stesso Che ha fatto Lo spawn di Ghost Che salutiamo Ghost o lo spawn E' quello che ha fatto Lo spawn di Minecraft E' stato lo stesso Che ha fatto Lo spawn di Ghost Chiudiamo Sfigliamo all'italiana Non è la propria l'italiana Non è l'italiana Eh Vabbè Ma Non si può mica pretendere Ma che cacchio Che sono venuto a fare Qui scusa Ah perché questa parte Non l'avevamo mai esplorata Sai Sì infatti Però Finito Comunque ragazzi Si può dire che Senza l'issere è diventato Molto più avventuroso Sì E' molto più complicato Però va bene così Questo è diventato Sì ma Sì ma Nelga come una bestia Non si può più Perché qua ci sono dei blocchi Togliamoli Che ci fanno sempre comodo Avere dei blocchi Da portarci dietro Perché ha finito Da terra Allora Sette Silenzio Ho sentito uno spirito maligno In mani Uh zombie Ciao Lo vedi anche tu lo zombie Sembra simpaticone Sì Sento Sento Non è che ci sia molto da vedere Cioè Non è proprio un gran bello spettacolo No aspetta No no Non dagli fastidio Allora un attimo Non dagli fastidio Non è così facile Qua c'è del ferro Ma per ora non lo prendiamo Giriamo con la spada Adesso no no Mi ricordo che c'erano già Dei mostri Non ti fanno niente Se non i passi Chi I mostri Sì lo so Lo so Mi ricordo anch'io qualcosina Non giochiamo un po' Alla nostra Obiettivo sopravvivenza Alla nostra Sopravvivenza Allora Si sentono dei rumori Che fanno un po' Paura Qua perché l'ho chiuso Mi ricordo che l'avevo A me pareva di averlo lasciato aperto Vabbè Ah no Forse c'è un creep Qualcosa del genere Ah già È vero È vero È vero Cos'è sto rumore La musichetta Scheletro Interessante Sì Mica tanto Insomma Adesso fra un po' Si sponano migliaia di mostri Vediamo quanto è interessante Allora Mettiamo la torcetta lì Andiamo all'esplorazione Ancora Ancora di più Il problema Sarà che poi Dovremmo mettere la minimappa Per tornare a casa E Quindi perderemo Tutte le Tutte le mod Che abbiamo messo Però vabbè Di quello vedremo più avanti Allora Porca vacca Si ma anch'io Sono intelligentissimo Cacchio 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 È all'attacco È all'attacco È all'attacco I prodi Allora Prodi poi Allora Dobbiamo chiudere Sto bucone qua Enorme Che C'è Sto buco Insomma Non è esattamente Un buco Ma porca vacca Ma non è possibile Arginarlo Non è possibile Arginarlo Signori Quindi dovremmo fare Una cosa di emergenza Ok Adesso va meglio Non è esattamente Arginato Cioè Abbiamo aggirato Temporaneamente Il problema Comunque Vabbè Il carbone Possiamo prenderlo Allora Un attimino Prima dobbiamo trovare Una soluzione A sto problema qua No Secondo me Allora Eh ma cacchio No Mi sa prendere il carbone Ok Così abbiamo quasi Risolto il problema Beh senti Prendi il carbone Poi va Ma non ci abbiamo Uffa Che panni Ragazzi Non ci siamo portati Dietro neanche Un po' di terra Che scatole AAAAAAAA Ok AAAAAAA Aiuto Ragazzi C'è un problema Piccolo C'è un problema Piccolo 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 Quel creeper lì Un mostro mostruoso Oh mi sta cadendo C'è Uno zombie È piena di mostri Sta caverna Via 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 Adesso c'è il creeper Che ci arriva da dietro Ti ricordi dove è l'ingresso Ho bisogno di trovare No Ho bisogno di trovare Nella terra Seguiamo le torci Ho bisogno di trovare La terra Vi prego No Uh lava Allora Di sicuro C'è anche un ranio Simpaticone Allora Ragioniamo Di sicuro L'entrata della caverna L'abbiamo fatta Cacchio Ma porca vacca Ma sti mostri qua Non sanno Non c'hanno Mancavo da fare La mattina La sera Allora Di sicuro L'entrata della caverna L'abbiamo fatta Verso L'alto No Ci siamo già persi Vabbè ragazzi Aspetta Fai controllare una cosa Abbiamo un po' di piccoli Perfetto Ma cos'è che Cos'è che è Ma Abbiamo una skin un po' Un po' Baccato Ci mancano alcuni pezzi Della skin Non so se notate Siamo senza testa Aspetta F5 No F5 F5 ancora Questa è ecenzionale Allora Boh Non so Andiamo Giriamo a cacchio Nella caverna Tanto ormai ci siamo Ah questo qua me l'hai Ah eh sì Cacchio Ma Ma noi Non dovevamo arrivare Dall'altra parte Togli il braccio Noi arrivavamo Ah no Perché noi eravamo saliti lì Appunto appunto Allora Ragioniamo eh Se noi siamo saliti da qui No Cioè noi Noi siamo scesi da qui Quindi l'ingresso della miniera Dovrebbe essere da queste parti Qua c'era la pislazio E noi arriviamo da là Attenzione Ritroviamo l'ingresso della miniera E andiamo a prendere della terra Verrà fuori il live Più palloso di sempre Perché dobbiamo trovare l'ingresso Eh Allora No qua Non è che ci siamo già stati Sì che ci siamo già stati Ma questa caverna qua È sempre girata in tondo Non l'ha ancora capito Ma Non so perché Mi sa che L'ingresso L'abbiamo lasciata sopra Allora No Proviamo Non so Proviamo Proviamo da qualche parte Tanto non ci abbiamo niente da perdere A provare Cioè Tanto ci siamo già persi Quindi Allora Eh Facciamo Non so Dobbiamo trovare dei mostri Fai Io proporre' di continuare a prendere Il minerale Che se ne frega Cioè Allora qua c'è un lapislazzoli Che non ci serve No ci serve Per fare la scuola Ci serve per fare Zona inesplorata Si vede perché non ci sono le torce No Ragazzi Per quanto riguarda Un ferro Visto Allora prendi il ferro veloce Torce ovunque Ma Ma è un intrico di gas E polvo In questa minerale Però se cadi di Dov'è 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 No scendi da lì Prima che ti fa cadere Appunto Che paura Armiamoci di spada Super spada Banzai Ok Allora Dobbiamo piazzare torce ovunque Per arrivare In fondo Ma questa qui è il nostro Lago di lava Solito Cacchio Ma è infinita sta grotta Ma non è possibile Che non si possa scendere No dai prendi il ferro Allora Sono senza Sono senza blocchi Cioè Girare in miner craft Senza blocchi Non è una cosa normale Perché Miner craft dovrebbe essere Tutto a blocchi Ficca Lo sai che è una cavolata Eh eh Ma quello che ho appena detto Comunque Fa niente Tanto adesso Prendiamo un po' di pietrisco Che fa sempre comodo E ci buttiamo A modi Banzai Banzai Ma che roba Ci siano neanche fatti niente L'importante è non entrare nella lava Perché Cos'è che può succedere Ma questo qui non è il lago di lava Che stavamo cercando di coprire No Mi sa che è un altro Un altro Sì ma non mi piace Non mi piace Eh Cosa vuoi che adesso C'è uno scheletro C'è uno scheletro dietro di me Che mi butta dentro la lava Allora Dobbiamo attraversare Il nostro super lago di lava Per capire cos'è che c'è Dall'altra parte Allora C'ho fame Faccio denotare Notare Denotare Denotare Che geniale Allora Dobbiamo attraversare il lago di lava Senza caderci Dentro Ci stavamo già riuscendo E dovremo anche arcinarlo Un domani In cui ci avremo della pietra Come facciamo ad aggirare il lago di lava Allora Allora lì c'è un sentiero sotto C'è Eh lo so Il fatto è che non lo vedo Quindi non è No aspetta Prova Scendi Prova buttati dentro No no Prova a scavare Stando un pochettino lontano Ok Stando un pochettino lontano Aspetta scava No no Vai giù Ecco lo dovresti vedere Sì Solo che Lo so dove va il sentiero E' solo che Ci vuole anche la strada Per arrivare al sentiero Perché naturalmente Un sentiero Non è un sentiero Se non c'è la strada Che porta al sentiero Ma che cavolo Allora Una scaletta ergonomica Stiamo facendo Ma ci sono specializzati Nelle scalette Allora Questo qua è il nostro No vai dritto C'è la polpa Sì vai dritto C'è uno scheletro qua Uno Ce ne sono 5 mili Eh ma che palle Cioè Cosa ci è servito A attraversare sto posto Niente C'è Un enderman C'è un enderman No a me sembra più in ombra No è un ombra È un ombra Ci sono dei rumori Che danno Di pistrello che ho preso fuoco Di pistrello che ho preso fuoco Allora Dobbiamo provare gente Ad andare Senza farci No aspetta Girati O c'è No mi sa che non ce la fai A fare un ponte No un ponte Non ce la faccio Non abbastanza blocchi Allora Mettiamo le torce Dove è andato il blocco Vabbè Adesso ci buttiamo dentro l'acqua Che ci porta fino alla lava Non è bello Allora Che costruiranno Che non formi l'ossidiano La formata Solo che poi un po' Si ferma l'acqua Non so esattamente Ah no c'è l'ossidiano Allora Facciamo sto test Vi è fuori una cosa Eccezionale adesso Una di nostre Eh ma non è molto facile qui No aspetta No non mi posso buttare dentro Mi ammazzo No ci dobbiamo fidare No ma sta Dobbiamo passarti lì Dobbiamo fare un ponte di lì Ecco Allora Hai 17 di pietra C'è non me ce la puoi fare Vediamo Eh dovresti farlo Mi sa soltanto di uno Eh di uno Cos'è Adesso poi mi ammazzo Se lo faccio di uno No ma va Vai tra Che noi siamo specializzati In tutto ormai Se c'era un buco Minca chiave Allora Facciamo il super pro Eh ma non ci arrivo No aspetta Teoricamente Se ti muovi il piano Dovresti riuscire A prendere il fianco Di quella dove sei No Sì sì io ce l'ho fatto Lo so anch'io È solo che non mi fido Cioè No non mi fido Ragazzi non ce la faccio Allora Facciamo No aspetta Ma poi sembrano abbastanza vicini Appunto appunto Ok allora È diventato molto più avventuroso Quando la via l'X-Ray Veramente Allora Ce la facciamo Perfetto Perfetto Bocchiamo via anche un pochino di pietra Per renderlo un po' più economico E sicuro Ma che cazzo Ma comunque Grazie di chiudere qua Questo video Questa 19.000 puntata Di obiettivo sopravvivenza È stata una trollata Cioè ci siamo trollati Da soli Come solito E ci rivediamo Nel continuare A esplorare Questa miniera Quindi Bella a tutti Da Wolf Da Jacopo Osservate il lago di lava Che sta sotto di me E gli endermani creeper Eccetera Ciao a tutti